... 39, 101, da Ligianiana che prende l'unica di gara. La famiglia di gara, la famiglia di gara. La famiglia di gara, la famiglia di gara, la famiglia di gara. 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 Ma va, non voleva essere doppiato. E perché va avanti? Partita anche questa seconda batteria. Passaggio dei meno otto, volata, punti il palio. 6, 3, 5, 22 il primo passaggio. Sono i primi due punti per Luisi Emma e i primi punti per Fiorato Amese. Qui c'è la volata per il meno 7 e i punti in palio. 7, 8, 22 il passaggio del meno 7. Quindi sono quindi i punti per Cipinè e Rianna e ancora un punticino per Fiorato Amese. Siamo nel giro lanciato dei meno 6, passaggio meno 6 e punti in palio. 22, 7. Ancora due punti per Fiorato Amese, sale a 4. Primo punto per Napolitano Amatilde in questa gara. Passaggio dei meno 5, punti in palio. 81, 22 è il passaggio dei meno 5. Sono i primi due punti per Fiorato Amese e ancora un punticino per Fiorato Amese. In questo momento appunti in tutti i punti per Fiorato Amese. Tanto c'è la volata per il traguardo del meno 4, meno 4 al traguardo. 78, 7 al passaggio. Sono ulteriori due punti per Cipinè e Rianna. E un punto per Napolitano Amatilde. Ne aveva già più uno, sale a due. Così come Cipinè e Rianna sale a 4. Tanto qui siamo alla volata e punti di meno 3. Volata, punti, meno 3. 7.22 in passaggio per il meno 3 e Napolitano Matilde prende due punti sale a 4 e Fiorato Agnese un punticino sale a 6 ma qui c'è il passaggio dei meno 2 meno 2 passaggio ai punti 6,3,5,7 è il passaggio Lisierma prende due punticini e Napolitano Matilde un punto Lisierma sale a 4 5 invece per Napolitano Matilde in questo momento punti a passaggio meno 1 Campana 78,22 78,22 passaggio del meno 1 con 6 punti a passaggio con 6 punti a passaggio con 6 punti a passaggio con 7 punti a passaggio con 7 punti a passaggio con 7 punti a passaggio attenzione che qua c'è l'arrivo volata arrivo concorrenti per le 3.000 metri 3.000 metri punti meno 9 meno 9 abbiamo visto sul tabellone e ora c'è il giro lanciato Campana ci indica che dal prossimo giro sono già i punti in fallo giro lanciato dai meno 8 sul traguardo punti in fallo punti in pallio 6,36,79 il primo passaggio è Degrade Martini che va ad aprire le danze con i primi due punti e Lazzarini e Arianna con un primo punticino volata del meno 7 c'è stata una caduta ma si è rialzata prontamente l'atleta 79,636 si alternano le atleti del primo passaggio a questo passaggio dai meno 7 alterni 2 punti per la giro e Arianna 1 punto per Degrade Martini e poi avremo carimento a 3 punti ciascuno donata meno 6 punto in pallio 6,85,79 e dal Santo Edonora i primi due punti e un punto ancora per la Zanini Ariane a Sala 4 Volata dei meno 5, meno 5 e punti in palio 79-6-3-6 è il passaggio del 1-5 Quindi 6 punti per la Zanini Ariane a Sala 4 Intanto ci giriamo e abbiamo la volata per il meno 4, punti in palio 6-3-6-79, passaggio di meno 4, ancora di grado Martina e la Zanini Ariane 7-3-5-4-9-4-6-3-6-5-5-4-6-6-6-6-7- organise due atleti della Red Black squadra di casa Cittadini e Arianna sono i primi due punti per lei un punto invece per Lazzarini e Arianna intanto abbiamo la volata per i punti meno due volata punti 2,95,78 passati del meno due ci avviciniamo alla zona calda della gara sono i primi due punti per Marelli e Giulia e il primo dei punti Cino per Cicchineri e Arianna che sta da tre passaggio e campana meno uno 6,36,78 il passaggio di meno uno abbiamo sentito la campana che ci fa capire che questo è l'ultimo giro l'ultimo sforzo è stato a liberare Grazie. Grazie.